Ciao a tutti bentornati su Fallout 4 Stavolta due novità in questo video Easter egg alienoso Abbiamo trovato finalmente l'alieno in Fallout 4 E arma rara Quindi l'arma rara che ovviamente è legata all'alieno Per prima cosa ci dobbiamo dirigere Nel luogo dello schianto della sua navicella Della navicella dell'alieno Vediamo che è notte Fa tutto molto horror No horror no Molto film di alieni Allora ci troviamo In questo punto della mappa Siamo vicino alla stazione di Oberland Ma se non l'avete scoperta Vi do come punto di riferimento Il birrificio B-Town Ci troviamo qui Rimuoviamo qua l'indicatore schifoso Ok qui Perfetto Allora qui c'è la Ecco una dosa di svataccio Qui c'è la bellissima navicella dell'alieno Quindi il punto dell'impatto E noi dobbiamo andare Da questo lato Sì ok perfetto Perfetto Come vedete qui c'è una caverna Ora noi entriamo in questa caverna Ci sarà un maledetto caricamento Come al solito Non so per quale motivo Ogni volta che si entra in una caverna L'inquadratura della telecamera Ci da come punto di riferimento Vedete quella la è l'uscita Non è dove prosegue la La caverna La caverna prosegue da questo lato Non lo so è un bug E vediamo qua c'è il nostro alieno Uccidiamo Uccidiamo Maledetto Ok fatto fuori Pazzesco Vediamo spostiamolo Se si può spostare Giochiamo con l'alieno Mamma mia Che paura Ma poi chissà per quale motivo St'alieno è finito qui Boh Comunque Vedete Blaster alieno Pistola più 69 di danni Proiettile Blaster alieno 41 Noi abbiamo solamente 41 Credo Presumo che questi proiettili Si possano Craftare Non lo so Mi sembra un po' strano Che ci siano solo questi 461 proiettili Che ci da Appunto l'alieno Però effettivamente Un'arma aliena Venuta da un altro pianeta Come cacchio andiamo a fare Noi proiettili Alieni Ok ragazzi Anche questo video Finisce qui Spero che Di esservi stato d'aiuto Spero che questo easter egg Vi sia piaciuto Uno dei più carini Di Fallout 4 Se ne trovo altri Farò i video Mi raccomando Lasciate un mail Mi piace Commentate Sotto appunto Nei commenti Vi lascio il link In descrizione La playlist Per quanto riguarda Tutte le altre Armi rare Di Fallout 4 Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Iscrivetevi Mi raccomando Ciao a tutti